Tutto ciò non porterebbe a un isolamento totale del nostro paese? No, innanzitutto noi chiederemo che altre nazioni si associino a questo progetto. Voglio aggiungere due o tre cose su quello che è stato detto poco fa. Innanzitutto l'IRI, l'Istituto di Costruzione Italiana Industriale, nel momento in cui è stato smantellato aveva 700.000 posti di lavoro ed era l'azienda più grande nel mondo. Quindi questo è lo Stato quando interviene associandosi agli imprenditori. È stata una grande storia per l'Italia. Poi voglio dire che il discorso, la differenza sostanziale fra noi e i comunisti è che noi crediamo nella grande distribuzione della proprietà e non nel fatto che la proprietà debba andare in mano allo Stato, quello che è avvenuto sempre nel comunismo. Noi riteniamo che il distributismo, la socializzazione, il fatto che gli operai possano co-gestire le imprese è un dato fondamentale nella nostra battaglia sociale. Pertanto noi vogliamo proprietà per tutti, i comunisti vogliono proprietà per tutti. Quinto giro di domande, ma rimaniamo ai temi economici calati però alle politiche sociali che sono già emerse nei vostri interventi, sostegno alle fasce disagiate, sostegno alle famiglie. Anche il Governo sta preparando un pacchetto in questo senso e si confrontano visioni molto diverse. Rizzo, ripartiamo dai comunisti. Salario minimo garantito a 10 euro l'ora, dite voi, e piano di assunzione in settori pubblici. Con quali risorse? Ad esempio riducendo drasticamente le spese militari. Penso al Movimento 5 Stelle che ha fatto una giusta battaglia su quello in campagna elettorale. E poi quando si è trattato di andare al Governo, ha rifinanziato gli F-35, ha rifinanziato tutte le missioni di guerra. Ci hanno privato delle parole, si chiamano peacekeeping, ma l'Italia fa la guerra in quei paesi. Sono 46 teatri di guerra. E quindi, insomma, bisogna cambiare da questo punto di vista. Sa quanto costa una missione militare? Quanti ospedali, quante strade, quanti treni perpendolari si possono fare? Quanto si può migliorare la nostra società, la vita quotidiana delle persone? Questa è la nostra proposta. Il salario minimo serve per evitare che ci siano delle guerre anche tra poveri, perché se arriva una giornalista siriana, le danno 500 euro, dorme qua negli scantinati della RAI, lei, signora cara, diventa razzista. E quindi bisogna avere un salario minimo, ma per mansione, in modo da evitare la guerra. Fiore è la famiglia, ma solo quella tradizionale, al centro delle politiche sociali del vostro programma, con misure mirate soprattutto alla natalità. Voi dite per fermare la sostituzione etnica in corso, ma alle famiglie di immigrati, diciamo, regolari e ormai residenti, voi non riconoscete dei diritti? Noi riconosciamo un diritto fondamentale agli italiani di prosperare sulla nostra terra, come lo riteniamo anche importantissimo per gli immigrati, di prosperare nelle loro terra. Detto questo, la nostra battaglia in questo momento, la nostra battaglia fondamentale, è per una grande campagna demografica, che significa mille euro a figlio per ogni mese, dal momento del concepimento fino al diciottesimo anno. Solamente con una fortissima ripresa di questo tipo, noi possiamo tornare a sperare in un futuro per l'Italia, perché la curva demografica è drammatica, e la curva demografica porta alla scomparsa del popolo italiano, e grazie alle politiche dei governi che ci hanno preceduto, a un numero di extracomunitari, possibilmente nuovi italiani, che arriva a 10-15 milioni nei prossimi anni. Tutto questo può essere fatto e deve essere fatto con la sovranità monetaria, quindi col controllo della finanza. Di Stefano, tutti ricordiamo cosa è successo a Casalbruciato, le vostre proteste per l'assegnazione dell'alloggio popolare a una famiglia Rom che ne aveva diritto. Non è un po' cavalcare il disagio e alimentare questa contrapposizione, che poi è una contrapposizione tra poveri? No, chi soffia sull'odio in realtà è chi prende una famiglia che si era iscritta nel 2018 nelle gradatorie e la fa scavalcare tutti gli italiani che aspettano da 15 anni la casa popolare, la porta lì e si prende la rabbia del quartiere. Io non so, il sindaco Raggi, cosa si aspettasse, se magari di arrivare lì e trovare gli striscioni arcobaleno con scritto grazie per aver dato questa casa di 100 metri quadri agli ultimi arrivati. Quindi c'è chi genera odio e chi non interviene per risolvere i problemi. Come ho detto prima, dobbiamo costruire le case, dobbiamo fare un sacco di cose che si possono fare soltanto se noi recuperiamo la nostra sovranità monetaria e di bilancio. Le realizzazioni, i programmi politici,